Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Io sono Jonathan e siamo qui ragazzi di nuovo con PES 2016 Per un altro spacchettamento, bollopo, opening come volete chiamarlo voi Grandissimo, sperando di trovare lui ragazzi Sperando di trovare lui come sempre Perché, come saprete, se seguite PES Hanno rimesso le leggende ragazzi Hanno rimesso le leggende Ragazzi, comunque se non vi siete visti lo scorso gameplay Andatevelo a vedere perché abbiamo provato Baggio Anche se ce l'abbiamo in prestito Abbiamo provato Baggio, com'è sul campo, se è forte, se è scarso Se fa gol, se non fa gol E ho fatto un golasso ragazzi Un grandissimo golasso Quindi se vi siete persi lo scorso episodio Andatevelo a vedere ragazzi perché è qualcosa di eccezionale veramente Allora ragazzi, quindi ci saranno due bollopening No oggi, però ci sarà questo e un altro Questo spacchettiamo Apriamo tutti gli agenti che ho preso in questo ultimo periodo E quindi non ci saranno le leggende Quelli delle leggende Il prossimo sarà tutto dedicato a quello delle leggende Perché hanno messo proprio oggi le leggende Quindi aprirò una decina di agenti delle leggende Quindi il prossimo non perdetevelo perché posso trovare lui Oggi siamo in ricerca di un grandissimo giocatore Qualsì, quel che sia Però speriamo Intanto vi faccio vedere come si è aggiornata la mia squadra Perché cosa è successo? Che aprendo un agente normale Quelli lì, Scarsi, che ti dà a fine partita Oltre i guai nella volta scorsa Ho trovato ragazzi Company Mi è uscito Company ragazzi Che è pallone nero È livello 14 È già 84 Se non sbaglio Arrivato intorno al livello 30 35 È 90 ragazzi È 90 È il difensore più forte che ho Da un agente normale Del cacchio Poi da agenti quelli lì che dovrebbe uscirmi un ballone nero Mi escono gli scarzoni Mi esce Dico Armando Allan Che ne so così Vabbè quindi Questa è la mia formazione aggiornata I guain è diventato 87 L'ho fatto arrivare al livello 27 Quindi questo a livello 35 Sarà intorno a 89 Più o meno Bene Poi terzino destro Ho messo Walker Perché Secondo me erano scaduti i contratti L'avevo messo in panchina E me l'avevo dimenticato là Avevo scordato che c'avevo Walker 83 Che è forte Avevo messo Che avevo messo a caccia adesso Non mi ricordo Sulla destra Che era scarsissimo Allora un Un iscritto Jonathan ma vedi che c'hai Walker Perché non lo metti terzino destro Walker Veramente c'ho Walker Veramente c'ho Walker Me l'avevo proprio dimenticato Comunque ci abbiamo ancora Baggio Per poche partite Purtroppo Altre due partite E ci saluterò È stato bello Speriamo di trovarti Eh ragazzi Scrivetemi nei commenti Ragazzi Devo sapere Adesso che c'è Siccome ce l'ho in prestito Se apro i pacchetti leggenda Non mi esce Baggio Perché pensa che già ce l'ho Quindi devo prima finire le partite E poi provare ad aprire i pacchetti leggenda O non fa niente Mi Pure se c'ho questo in prestito Mi esce lo stesso E soltanto che me lo fa diventare Ehm Fisso Non lo so Quindi anche per questo Non ho aperto ancora i pacchetti leggenda Quindi vabbè Ma andiamo a spacchettare Ho parlato tre ore Ho fatto vedere la formazione Eccetera eccetera Andiamo in contratti E iniziamo ad aprire Quelli che c'ho Allora qui c'ho qualcosa Non mi ricordo nemmeno No non c'ho niente Bene Andiamo agente speciale Allora ho tre Di agente Eh UEFA Euro 2016 Ne ho tre Poi ho due Di Champions League E poi c'è quello lì Five Legends E Babangida Ma che cavolo è Babangida Non l'ho capito Comunque c'è il 42% Di palloni neri Ragazzi Vedete gli elenchi i bersagli Ci sta Messi Babaggio me lo conta Che ce l'ho già Quindi mi sa che Devo finire Prima il prestito E poi posso spacchettare Perché conta come se Già ce l'avessi Quindi è meglio Consumare prima il prestito E poi provare ad aprire i pacchetti Eh 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 Visto Visto Quindi dopo mi faccio le due partite E poi vediamo Guardate qua che giocatori fortissimi C'ho pure Roberto Carlo C'ho tre leggende C'è due Però tre con il Baggio in presto C'ho due Quindi ce ne sono altre tre Sperando che la prossima leggenda sia Baggio però Vabbè Apriamo Apriamo prima quello UEFA Euro Vediamo Apriamo Annaldo Un Ibrahimovic Un qualcosa così Perché mi esce valore Ma chi è Chi è con questo Cucca Vatta Cucca Veramente Vatta Cucca Chi cacchio sei Dove Trovar che nel Milan gioca Ah questo è Cucca Cucca Non è Cucca Questo è Cucca Ma questo forse è foro Vabbè Il pallone d'oro Aggiungiamo in prima i club Si deve fare troppo Apriamo adesso quello Vuoi fare Champions League Vai Si andiamo E andiamo che lo troviamo Uno forte Guarda qui quanti palloni neri Guarda qui Se mi esce un pallone Che caso Se mi esce un pallone d'oro Con tutti questi palloni neri No ma allora Questo è sfortunato Questo non può essere Ma mi esce Ma mi esce un campione Guarda il pallone d'oro Eh eh Gwendes Ah 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 Altro che Cigarini Ragazzi Lo ricordate Quando mi è uscito Cigarini in vivo Se mi esce pure qua L'abbiamo sbancato Ma per piacere Tutto Avete visto quanti cavolo Di palloni neri c'erano Apriamo quello UEFA Euro 2016 Avete visto quanti cavolo Di palloni neri c'erano E mi è uscito giusto Il pallone d'oro e mezzo Ma come Come si fa Vai Ma va No Tre Tre Nemmeno un pallone nero Ma perché Mi devi far piangere Davanti a tutti Perché Perché Io Criceto Mi è uscito il giocatore del Napoli Criceto Mi è uscito Mi è uscito Criceto Mi escono i giocatori Mi sono già Già Qua è dormire Cioè vai a dormire Apriamo un'altra volta Quello Euro Cioè Ho pure finito i slot Giocatori Mamma mia Benissimo Quindi li vado a liberare Un attimo E poi ritorniamo Eccoci qui Vediamo un po' Se riusciamo a trovare qualcosa Tipo C'è uscito tutti i palloni D'ora ragazzi Almeno un pallone nero Ci uscirà Apriamo un'altra volta Questo Che ci sono meno probabilità Di nero E l'altro Ce lo lasciamo per ultimo Con il naso Dai Un pallone nero Per piacere Non mi vuoi uscire Però se mi escono Se mi escono tutti i palloni d'oro Ah Un pallone nero Vai 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 Qualcuno di forte Inizia a fare i palleggi Bravo Inizia a scartare Inizia a fare tutti I magheggi Che cacchio Pogba No Pogba No Pogba No Non lo voglio Pogba No È giuventino No È forte Sì Però è Pogba Non so se essere contento O scontento Giuventino No Tutto Ma giuventino No Che devo fare Porca miseria No vabbè È forte È forte Scherzo Me lo fai in questa squadra Che mi interessa Che è giuventino Però che posso Di chilometto Dopo andiamo a vedere Però Pogba Pogba è forte Pogba è forte Pogba è forte Pogba è forte Non fa niente che è giuventino Vai Champions League Mo voglio Mo voglio un Messi Mo Un Messi Bel pallone nero Di nuovo Bello nero nero Come il catrame Vai Vai Bravo Pes Bravo Pes Ora un paio di palleggi Un paio di giochetti Una bella faccia Conosciuta Già che fa la scivolata Già questa è forte Chi è? Chi sei? Chi è? Carvajal Terzino destro Grande Grande Terri a Madrid Grande Mi serviva E te Volker Valigia Valigia Volker Valigia Valigia Volker Forza Grande Andiamo subito Per la formazione Andiamo ad aggiornarla Bene Allora Volker Mi dispiace Ma devi farti Le valigie Valigie a casa Volker Torno a casa Volker Grande Salgo pure Salgo pure Di 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 spirito squadra Grandissimo Pogba Pogba Dobbiamo metterlo Al posto Di 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 Secondo voi ragazzi Vedemelo nei commenti Perché non so al posto Di chi metterlo Posto di mascherano Luis Gustavo Perché è forte proprio Luis Gustavo Anche se sembra più scarso Di mascherano È fortissimo Però vai Mettiamolo al posto Ah diventa sempre 85 però Perché lui è cc Invece qui è mediano Secondo voi quindi Tengo Luis Gustavo O metto Pogba E rilascio Pogba Tutti i giuventini Mi scriveranno Pogba Tutti gli anti Giuventini Scriveranno Luis Gustavo Ma vabbè Non pensate alla squadra Pensate solo se è forte o no Non fate come me Che vi l'ho visto Ho detto No è giuventino Perché sono strupido Me lo dico da solo Sono strupido E ho pensato questa cosa Però voi non ci fate caso E che dite E niente Quindi ragazzi Era questo Spacchettamento Non ci è andata così male Ci sono usciti due giocatori Che ci servivano proprio Che abbiamo aggiunto Alla formazione Quindi non ci lamentiamo Anche se all'inizio Sembrava andare proprio Una schifezza Però è andata Molto bene Ragazzi Non perdetevi il prossimo Che spacchettiamo Nelle leggende Ragazzi Non perdetevi Mi sa che il prossimo È la volta buona Ragazzi Me lo sento Il prossimo È la volta buona Ragazzi A costo Se devo Mi sa che compro pure le monete Compro 100 euro Di monete Spacchetto Tutto e 100 Perché solo 100 giocatori Ci sono in quel pacchetto Tutti e 100 Finché non mi esce Baggio Vai Facciamo così No scherzo 100 euro per un gioco Cioè per un Degli oggetti In un gioco Poi tra poco Esce il 2017 Tra poco Sei mesi Va bene ragazzi Chiudiamo Che ho fatto durare Pure troppo Questo semplice Spacchettamento Ragazzi Come sempre I gameplay Avete visto Sono ritornati Stiamo ritornando Alla grande Con tanti gameplay Quindi adesso È il momento Di iscriverti Tu Che magari Hai preso questo video Stiamo per caricare Ma tanti Ma tanti Di quei gameplay Ma tanti Di quei video Ma tanti Quindi iscriviti E clicca pure un bell Mi piace Iscrivetevi pure Nella pagina facebook Di Diamento alla brothers Trovate il link In descrizione Dove pubblichiamo E mettiamo tante cose belle Dovete iscrivervi Alla pagina facebook Iscrivetevi Sui nostri social Twitter Rush Da tutte le parti Poi può capitare Che il gameplay Non vi sia piaciuto Perché Che ne so Mi è uscito Pogba Allora non vi è piaciuto Non mi è uscito Non ho trovato Baggio Allora non vi è piaciuto Non lo so Mi è uscito Vatta Cucca E non vi è piaciuto Può capitare E quindi Se capita Da parte di Pogba E di Vatta Cucca Madonna Grazie ragazzi Da Giorno di Tornamento La Giamendola Brothers Alla prossimo video Ciao Adio Grazie a tutti Ciao 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 Grazie a tutti.